Che fai Vi? Dove ti sei seduta Vi? Amore? Dove ti sei seduta? Sì? Che sei un libro tu? Amore? Che sei un libro? Ah, che bel libro! Come si chiama questo libro? Vi senta? Vieni, vieni, vieni qua! Vieni qua, vieni qua! Vieni, vieni qua! Vieni, vieni qua! C'è il libro! C'è il libro! Ah, ora si! Dicono... C'è il libro, qui! Que dici Sara? Abbiamo un libro nuovo? un libro dove hai dovuto andare? hai dovuto andare? che bello